Oggi è lo Yuri Show! C'è niente da fare! Mi metto a favore di telecamera, va! Sono biguane! No, è bello! Un bel pesce! Guarda come sbolle! Quindi è troppo fatto! È ritornato peso adesso! Qua è sbollato! Ho buttato fuori l'aria! Adesso è diventato bello pesante! Allora! 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 Ah, è un bel pesce! Allora! Allora! Ecco che si vede! Un bel pesce! 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 guarda che è il gas figa vediamo se è stanco chi sei? enorme è enorme occhio vai 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 occhio che c'hai lì qua lo stesso è il mio dento abbi pazienza ah che madonna la barca cica che lavoro è il filma andro bene sì è il filma è il filma è il filma vieni vicino vieni vicino vieni da testa vedo se ne va che bello aspetta 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 si vede ancora guarda che bello come maestoso sì sì be glad oggi grazie grazie ci sei coi tempi tre minuti tre minuti sì se l'hai con una mano si ora con due ti pianta una vomitata ti pianta una vomitata questo qui adesso ti pianta una vomitata si lo metto ancora a bordo del tutto ti conviene questa è ti conviene solo buttarlo fuorne a gatto ahhh sbadabaf sì sì sì